Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video del Fanta Calcio 35esima giornata di Serie A fatemi sapere come sta andando il Fanta Calcio se vi manca poco magari anche per andare a premi iniziamo subito con Torino Bologna Sanabria, Zapata, Vlasic sono da schierare difesa schiererei soltanto buongiorno e per quanto riguarda le fasce Bellanova e Poguota secondo me sono schierabili Milinkovic, Savic si può schierare per quanto riguarda il Bologna invece Zirze dobbiamo schierarlo Orsolini sperando che partirà dall'inizio altrimenti sta prendendo un po' Bassini però è da schierare Salemakers, Idem Lazzuzzi ovviamente lo schieriamo Ebischer non è proprio tra le mie prime scelte, Fraulier no, non lo schiererei invece in difesa Christiansen, Calafiori, Posh, Lukumi sono schierabili come Skorowski, secondo me Torino, Bologna è da X da pareggio, Monza, Lazio, Djuric non lo schiererei sinceramente del Monza io schiererei se intanto Zerbin, Pessina, Colpani eviterei Akpac Pro e Bondo in difesa mi piace solamente Marie e anche un po' Kiriakopoulos si può schierare e di Gregorio è schierabile per quanto riguarda invece la Lazio Castricianos da schierare come Zaccagni, Luis Alberto Felipe Anderson, Kamada, Gendusi, Mariusic sono tutti schierabili ovviamente consigliato, Luis Alberto, Kamada che sta facendo un grande campionato da quando c'è Tudor Felipe Anderson e Zaccagni sono da schierare assolutamente eviterei Casale, eviterei Patrick eviterei Romagnoli Provedel dovrebbe ritornare ed è da schierare secondo me Monza, Lazio, per me vince la Lazio per quanto riguarda il Sassuolo Sassuolo è una partita complicatissima contro l'Inter io diciamo se devo schierare qualcuno schiererei soltanto laureante Pinamonti ma non come primissime scelte per il resto vi darei tutto il Sassuolo lo vedo veramente a un passo dalla Serie B per quanto riguarda l'Inter invece i campioni d'Italia sono tutti schierabili non perdiamo tempo quindi dire questo sono tutti schierabili anche i panchinari panchinari importanti come Aslani come Sanchez, Arnautovic e Frattesi ovviamente Di Marco che non è un panchinato però partirà dalla panchina quindi Sassuolo-Inter vince l'Inter Cagliari-Lecce il Cagliari che non ha fatto una bellissima prestazione contro il Genoa Shomuro, Don Bluvumbo e Gaetano da schierare perché comunque il Cagliari in casa fa sempre molto bene non penso una vittoria contro il Lecce però secondo me un pareggio può uscirci nella sfida tra Cagliari e Lecce quindi Augiello Augiello da schierare Nandes, Magombo e Suleman li eviterei come eviterei Aziakos e Dossene invece lo schiererei e anche Mina Scuffette secondo me si può schierare invece per quanto riguarda il Lecce e Christovic piccoli Dorgu da schierare questi tre come Oden e Baschirotto Gallo anche lui secondo me si può schierare come Gendrei e Falcone schierabile Cagliari-Lecce per me pareggio Empoli-Frosinone Nyang Cambiaghi da schierare secondo me Frosinone comunque si dovrà fare risultato quindi potrebbe scoprirsi partita complicata da decifrare perché comunque tutte e due si devono salvare secondo me è una partita chiusa vediamo sfida interessante secondo me per la zona salvezza Pezzella secondo me si può schierare Caprile-Idem Cagace e Giassi sono schierabili per il resto Frosinone ovviamente schierare e che dire Sule sono da schierare assolutamente Valeri ottima prestazione Brescianini Mazzitelli Zortella da schierare Baranacella schierabile ma non tra i consigliati in difesa Ocoli secondo me si può schierare come Romagnoli e Lirola Cerofolini secondo me è schierabile Empoli Frosinone per me vince il Frosinone Verona Fiorentina partita interessante il Verona si deve salvare deve vincere deve battere la Fiorentina e secondo me potrebbe avere delle chance la Fiorentina ha la Conference League avrà diciamo diversi impegni nelle settimane proprio per la Conference League quindi vediamo anche a livello psicologico come ne usciranno quindi Bonazzori Lazovic Floruscio e Noslin secondo me sono da schierare Duda Serdar io li eviterei e in difesa schiererei soltanto Coppola Montipò secondo me è da schierare nella Fiorentina io schiererei soltanto Sotil Iconet Belotti e Beltrano ma questi tanto poi entrano in ballottaggio vedremo poi perché ci sarà sempre la Coppola ovviamente da schierare Martinez IV e Parisi ha fatto un'ottima prestazione mi è piaciuto Milenko Lovitereca Io De schierabile secondo me Terracciano anche lui è schierabile secondo me Verona Fiorentina vince il Verona Milano Genova partita diciamo conta poco a livello di classifica il Milano ormai in Champions League manca soltanto la matematica il Genova ormai salvo però magari vedremo anche dei molti nuovi quindi Leao Pulisic Ciuguenze schieriamoli Io schiererei anche Okafor oltre diciamo questi attaccanti del Milan secondo me non sarà una partita facilissima per il Milan Reinders secondo me è schierabile Viteredli Ternandez assolutamente sì come Tomori e Sportiello sì ottima prestazione contro la Juve è da schierare Genoa Genoa ha sconsigliato Gudmunds una grande prestazione anche nell'ultima partita grande capocannoniere del Genoa ma sta salendo anche la classifica capocannoniere in Serie A Retechi e Vidignan sono schierabili Sabelli idem e Vasquez da schierare secondo me Martinez io lo eviterei Milan Genoa vince il Milan Roma Juventus partita importante potrebbe essere diciamo le fatiche di coppa per la Roma potrebbero farsi sentire la Juve vuole tornare a vincere in campionato e Sharawi Lukaku Baldanzi secondo me sono da schierare vedremo anche se Dybala recupererà se Dybala avrà comunque modo di scendere in campo probabile che vorrà farlo anche riposare per quanto riguarda poi il ritorno di Europa League quindi vediamo Pellegrini da schierare invece in difesa io schiererei Mancini Angelinho e Christensen Svilarra secondo me è schierabile perché comunque la Juve non fa tantissimi gol soprattutto fuori casa Chiesa Vlaovic da schierare Kostic io lo schiererei insieme a McKennie e Cambiaso Rabiot è schierabile anche lui la difesa bene o male se ne avete uno potete anche schierarlo non prendono brutti modi comunque i difensori della Juve Chiesa ovviamente è da schierare Roma-Juventus per me finisce in pareggio Salernitana-Atalanta nemmeno a perderci tempo ragazzi io schiererei io schiererei soltanto c'è una e Candreva per quanto riguarda la Serenità nevita e tutti gli altri invece per quanto riguarda l'Atalanta io gli schiererei tutti tutti quelli che danno titolare quindi Thure Luckman e Miran sono da schierare Ruggeri Derun Ederson Ederbour da schierare stessa cosa per la difesa e il portiere che è super consigliato contro una squadra ormai in Serie B invece l'Udinese Udinese Napoli partita secondo me interessante perché il Napoli reduce da una prestazione un po' da sprecona contro la Roma poteva fare meglio quindi l'Udinese si deve salvare quindi sarà una partita secondo me molto difficile per il Napoli e secondo me potrebbe uscirci la sorpresa qui Lucca Pereira da schierare insieme a Samargic Camara e Zigue per quanto riguarda la difesa secondo me Bijol si può schierare o coglie Idem Eviterai Ferreira non mi è piaciuto nelle ultime prestazioni o coglie secondo me si può schierare nel Napoli io schiererei Quara Simena Eppolitano però centrocampo non schiererei nessuno in difesa schiererei soltanto Di Lorenzo e Olivera Meret si può schierare perché anche se dovesse comunque vincere l'Udinese secondo me non faranno più di uno due gol detto questo ragazzi io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto e lasciate un bel like io vi ringrazio e ci vediamo in diretta